la gazzola fa la magia tutto quel che fa il tuo bimbi di bobi 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 questa è la versione della torrisa torrisa invece il rosino? ah non dico proprio normale che significa? ti piace fino a stasera era solo melania melania l'area la mia questo è un po' ea qualcosa di per la compagnia sana mi senti adesso melania 2007 e solo ricordo oppure no che si chi si trova la testa trova bene ma questo non si intende stavamo fuori un'altra schifte il cavo roma all'epidote quando è capata non si vede perchè sono luci non si fa la foto come vado a mangiare come i burke ci siamo fatti certo infonduto sei gelato hai rischio di ritornare il telefono ma non mi riprendi lo stiscia la notizia ma perché non si vuole fare riprendi ah già c'è come fai a lei come fai a lei vado scasso da pure in capo ah sta pure a B B A B E B B protorretto B A B 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 Grazie a tutti.